Balcony TV Ciao a tutti, benvenuti ad una nuova puntata di Balcony TV Trento. Io sono Jenny, oggi ospitiamo i The Blowing Guitar Duet. Vi lascio subito in compagnia del loro brano Un Mondo Amatriosca. Buon ascolto. Un linguaggio universale Che unisce pensieri e emozioni Situazioni affaticate da pensieri sovrapposti E' difficile trovare argomenti interessanti Che non destino sospetti Sullo stato di una morale arrotolata su se stessa Ma alla fine Che ti importa Di tutti lieto fine Il migliore ancora in sosta Aspetta di partire in retromarcia Che ti importa Dei pensieri altrui Che navigano col vento E quel che importa è fare il centro In un mondo In un mondo Amatriosca E' un percorso delicato Basta prender la corrente Per lasciarti trasportare Oltre i confini Oltre i confini Bella mente E' un mondo tutto nostro Nascosto dai segreti della gente Che non ti chiedere Non ti chiedere quanti Sono tanti Come i ricordi Ma alla fine Che ti importa Di tutti lieto fine Di tutti lieto fine Il migliore ancora in sosta Aspetta di partire in retromarcia Che ti importa Dei pensieri altrui Che navigano col vento E quel che importa è fare il centro In un mondo Amatriosca C'è chi pensa che triste sia la solitudine Ma chi capisce Ma chi capisce lo sa E' una dolce assenza di sguardi L'ho letto in un libro E ho capito Che ti importa Dei pensieri altrui Che navigano col vento E il lieto fine L'ho già scritto Ma il migliore ancora in sosta Aspetta di partire A tutta sesta Che ti importa Di tutti lieto fine Di tutti lieto fine C'è il tuo che ti aspetta E' quello di far centro In un mondo Amatriosca Grazie ragazzi Complimenti Grazie a voi Bravissimi anche per la tua voce Martina Grazie Sei Martina Ti fai accompagnare da Filippo Da quanto ho suonato insieme Come vi siete conosciuti Suoniamo insieme da un anno Abbiamo iniziato a fare questo duo In maggio 2015 E ci conosciamo da più o meno 4 anni Perché abbiamo frequentato Il liceo musicale Bonporti insieme E in quinta superiore Abbiamo deciso di formare questo duo Con sax, chitarra e voce Riarrangiando il mio repertorio acustico Da solista Questo brano Un mondo amatriosca Che significato ha per voi? E' un brano che ho scritto l'anno scorso E ho voluto paragonare il mondo A una matriosca Perché le avevo in camera Devo dire Queste matriosche Allora mi è venuta l'idea Di scrivere una canzone E paragonando appunto il mondo A una matriosca Perché c'è sempre qualcosa Da scoprire E più si scoprono le cose E più si ha voglia Di scoprirne altre Quindi diciamo Si basa sulla curiosità Solitamente girate molto Per la vostra musica Vi esibite in posti particolari? Giriamo spesso Per il Trentino Alto Adige E abbiamo fatto Molti festival Molti concerti In vari locali E anche festival di strada Quindi abbiamo potuto conoscere Artisti Di varia natura Diciamo Per chi volesse continuare A seguirvi su Facebook E ascoltare le vostre canzoni Siete presenti Su alcune piattaforme Giusto? Yes Potete seguirci su Facebook Sotto il nome di The Blowing Guitar Duet E alcuni video Su YouTube Sono presenti Che abbiamo girato da poco Un'ultima domanda La riserva a Filippo Com'è suonare con Martina? Allora Beh Innanzitutto noi Cerchiamo sempre Di creare un'omogeneità Al suono Creando l'unità Del saxofono Con la chitarra E la voce E quindi La nostra musica Si basa Soprattutto su questo E quindi È sempre bello Lavorare insieme Si vede È un ottimo binomio Armonioso Noi vi ringraziamo Di essere venuti fino Qui a trovarci Grazie a voi Da Trento a Trento Noi ci rivediamo Ad una prossima puntata Di Balconi TV Trento Mi raccomando Continuate a seguirci Ringraziamenti Vanno sempre al Muse E all'area In particolare Fabrizio Stefano E Laura Ciao Ciao